Papà? Mmm. Papà? Sì? Papà? Ah! Chi c'è? Me lo compri un computer quantistico? Non prima del 2032, Giovanotto. Ciao ragazzi, io sono Marco per gli amici il Cuso e benvenuti all'ultima puntata della serie Quantum Computing, ovvero come i computer quantistici rivoluzioneranno il nostro modo di fare 1 più 1. Questo inoltre è il centesimo video pubblicato sul canale, se includiamo anche un video di annuncio che è stato messo ora in non elencato. Quindi sono molto contento che questa ricorrenza capiti su questo video che reputo molto importante e che spero voi troviate molto interessante e spero anche che lo condividerete come non ci fosse un domani. Questo video nasce anche grazie ad una collaborazione esterna, nel senso che non ci sarà nessun altro qui con me in video. Manuel Occorsi della redazione di Close Up Engineering ha infatti pubblicato una serie di articoli relativi al funzionamento del computer IBM che vi invito a leggere e ve li trovate qua sotto in descrizione. Manuel è uno studente di Ingegneria Informatica e scrive per Close Up Engineering, una pagina che insieme a Scientific Rust e Astronauty News e ovviamente alla fisica che non ti aspetti, contribuisce al canale Telegram, Telegram Scienza e se non siete ancora iscritti a questo canale, qui sotto ve lo lascerò in descrizione. Oggi vedremo insieme come funziona il computer IBM, com'è fatto, com'è costruito e quali sono i problemi che, ad oggi, limitano lo sviluppo di un computer quantistico più potente. Il computer quantistico di IBM ha 5 qubit. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tecniche per costruire i qubit, basandosi su diversi effetti quantomeccanici. Nel caso specifico il computer di IBM usa dei qubit che si basano sull'effetto Josephson. Questo tipo di qubit ha il grande vantaggio di poter essere costruito direttamente su dei chip di silicio, utilizzando una tecnologia che ormai è molto ben consolidata. Sul silicio vengono deposte queste strutture, le giunzioni Josephson, di cui magari parleremo in un prossimo video, che però purtroppo richiedono temperature bassissime perché i metalli deposti sul silicio devono essere portati allo stato superconduttivo. Il computer di IBM infatti viene costantemente mantenuto a una temperatura di circa 15 millikelvin, utilizzando quello che si chiama un criostato a diluizione. Ci tengo a precisare che 15 millikelvin è una temperatura inferiore persino allo spazio esterno. Vorrebbe dire che costruire il computer quantistico là fuori non sarebbe abbastanza. Il sistema deve essere mantenuto a una temperatura ancora più bassa. Questi qubit possono essere messi negli stati equivalenti a quelli ottenibili con le porte logiche di cui abbiamo parlato nel secondo video utilizzando dei fasci di microonde che vengono incanalati, vengono diretti verso i qubit tramite delle guide d'onda che sono anch'esse stampate direttamente sul chip. Quindi l'intero sistema viene proprio preparato tutto quanto sul chip. Una volta posti nello stato voluto, stato 0, stato 1, una opportuna sovrapposizione coerente dei due stati, i qubit rimangono in quello stato fino a quando non interveniamo di nuovo, modificando lo stato oppure misurandoli. O per meglio dire, dovrebbero rimanere in quello stato. Purtroppo la presenza di fotoni residui può comportare delle interazioni che sono equivalenti a delle misurazioni a tutti gli effetti dei qubit. E questo può modificare il loro stato in modo imprevedibile. Per esempio, se metto un qubit in una sovrapposizione di stati, 0 e 1 equa, vale a dire in cui la probabilità di ottenere 0 o di ottenere 1 quando andiamo a eseguire una misura è esattamente la stessa e pari a 1 mezzo, io mi aspetterei quando faccio la misura di ottenere metà delle volte 0, metà delle volte 1. Il computer quantistico di IBM ha un comando chiamato IDLE. Il comando IDLE non fa niente, aspetta. Aspetta un lasso di tempo pari alla durata normale dell'applicazione di una qualunque altra porta logica. Quando vado a misurare il qubit mi aspetterei in media di ottenere metà delle volte lo stato 0, metà delle volte lo stato 1. Invece ripetendo l'esperimento vero più volte, e il computer di IBM permette di ripeterlo 8192 volte in serie, noto una prevalenza dello stato 0. Perché? Perché è possibile, anche se non molto probabile, che durante l'attesa l'interazione con un fotone che non sarebbe dovuto essere lì fa sì che il qubit perda lo stato di sovrapposizione coerente di stati e quindi decada o nello stato 0 o nello stato 1. Questo processo è noto con il nome di decoerenza o perdita di coerenza. In teoria non dovrebbe essere un grande problema perché se la statistica è quella, cioè 50% stato 0, 50% stato 1, se anche la misurazione viene eseguita in anticipo rispetto a quando decido io, cioè viene eseguita dalla macchina e non dal sottoscritto, mi aspetterei che il qubit decadesse o nello stato 0 o nello stato 1 con il 50% delle probabilità e poi rimanesse in quello stato. Ma le cose non stanno esattamente così. Lo stato 1, infatti, è uno stato eccitato. Il che vuol dire che, anche se a quelle temperature il processo è molto, molto improbabile, un qubit nello stato 1 può decadere spontaneamente nello stato 0. E questo mi falsa tutti i risultati. Possiamo vederlo chiaramente se andiamo a mettere un qubit esattamente nello stato 1 e aspettiamo i soliti 20 cicli di idle prima di eseguire la misura. In teoria dovrei ottenere sempre il qubit nello stato 1. In pratica ho una piccola percentuale di qubit che decadono spontaneamente nello stato 0. Questo ovviamente è un primo problema perché vuol dire che i risultati dei calcoli del computer quantistico risultano falsati da questa decoerenza, da questi decadimenti. Quindi è necessario, anche se non semplice, andare a costruire, andare a sviluppare dei mezzi per o sapere che c'è stata decoerenza, che quindi i risultati non vanno presi in considerazione o vanno in qualche modo elaborati, oppure evitare direttamente di ottenere la decoerenza. Se vi interessa, anche se sono due articoli piuttosto tecnici, vi linko due lavori qua sotto in descrizione che approcciano proprio questo tipo di problema. Un altro problema non da poco è il trasferimento di informazioni da un qubit all'altro. La porta CNOT che è una porta fondamentale per il funzionamento di un computer quantistico, applica un'operazione a un qubit, l'operazione NOT, solamente se un altro qubit di controllo si trova nello stato 1. Quindi è fondamentale poter fare questo tipo di confronto. Ma come? In un computer classico, proprio detto brutalmente, perdonatemi, io posso tirare un filo tra il primo bit e il secondo bit, tra il primo transistor e il secondo transistor. Qui non posso fare una cosa così banale. Come si risolve il problema? Beh, IBM su questo diciamo che nicchia un po', non è che ci dice proprio tutto, tutto, tutto su come è costruito il loro computer quantistico. Però in qualche misura il problema sono riusciti a risolverlo. In misura limitata però, perché se fate caso alla struttura, solo uno dei qubit, quello chiamato Q2, è effettivamente collegato agli altri quattro. Tra di loro questi quattro, invece, non sono collegati. Quindi, porte come la CNOT oppure anche il gate di Toffoli, che coinvolgono più qubit, devono per forza di cose passare dal bit centrale, dal Q2. Un altro problema non da poco, ma questa volta non specifico del computer IBM, è intrinseco agli algoritmi quantistici, è la casualità dei risultati. Mi spiego meglio. L'algoritmo di Grover, di cui abbiamo parlato tante e tante volte negli scorsi video, non mi dà sempre il risultato corretto. In realtà c'è solo una certa probabilità che l'algoritmo di Grover mi dia il risultato corretto. Per esempio, identifichi libro, pagina, riga e posizione nella riga della parola che sto cercando tra tutti i libri della Biblioteca del Congresso. Ma questa probabilità, quando il numero di elementi tra cui cercare cresce, cresce anch'essa. Ma non supera mai il 50%. Quindi, quando n diventa grandissimo, quando l'algoritmo di Grover può dare il meglio di sé, il meglio di sé è che mi dirà la risposta giusta una volta su due. Cos'è sta diavoleria? Come posso accettare una cosa del genere da una macchina simile? Beh, dobbiamo ricordare due cose. Innanzitutto un computer quantistico impiega molto, molto meno tempo di un computer classico a svolgere quel calcolo. Ordini di grandezza di tempo in meno. Ciò significa che se anche dovessi ripetere l'algoritmo dieci, cento, mille volte, comunque impiegherei meno tempo di un computer classico che esegue quello stesso calcolo una volta sola. Va bene, quello mi darà sicuramente il dato esatto, ma la probabilità che per dieci volte di fila l'algoritmo di Grover cicchi il risultato è meno di una su mille. La seconda cosa da ricordare è che verificare se il risultato è corretto o meno è un'operazione molto veloce. Consiste nel prendere il libro indicato, aprirla alla pagina indicata, cercare la riga indicata, cercare la posizione indicata e verificare se la parola è quella. Se è quella tutto bene, se non è quella ricomincerò da capo, ma comunque impiegandoci meno tempo di un computer classico. In conclusione, avremo mai un computer quantistico in tasca? Riusciremo mai a ridurre le dimensioni dell'hardware a quelle di un telefono cellulare? Lo staff di IBM su questo è piuttosto pessimista, perché l'hardware impiegato è davvero molto molto complesso. E anche se i computer classici hanno seguito una storia simile, sono partiti da strutture grandi come una stanza e sono finite in oggettini che possiamo tenere in tasca e che hanno una potenza di calcolo molto molto superiore a quei primordiali computer, nel caso dei computer quantistici le cose sembrano molto molto più complicate. Ma abbiamo un'altra carta da giocare. Possiamo infatti pensare di usare i computer quantistici proprio così come ora possiamo usare il computer quantistico di IBM, con il cloud. L'idea è che noi avremo un normale smartphone sul quale digiteremo il nostro problema, che verrà inviato a un computer quantistico presso un centro di ricerca, un server o da qualche altra parte, lui elaborerà i dati e li restituirà al mio cellulare. In pratica il mio cellulare fungerà solo da terminale per il computer quantistico. Questa è una prospettiva molto più verosimile e sicuramente anche molto più vicina nel tempo. Quanto più vicina nel tempo? Oh beh, le stime sono assolutamente difficili da fare. C'è l'idea di essere effettivamente resi operativi utilizzati dalla gente comune. Però questo vorrebbe dire che nel frattempo il numero di qubit disponibili dovrà crescere. Lo staff di IBM fa anche un'altra previsione. Quando i computer quantistici riusciranno a superare i 50 qubit allora avremo un computer in grado di superare, in termini di potenza di calcolo, il super computer più potente che noi siamo mai stati capaci di realizzare e che forse saremo mai in grado di realizzare. Super computer classico, naturalmente. Bene ragazzi, questo video e questa serie ufficialmente finiscono qui. Questa serie mi è piaciuta tantissimo, spero sia piaciuta molto anche a voi. Mi ha dato un enorme feedback in termini di condivisioni, di discussioni sotto i video e a tal proposito voglio ringraziare tutti coloro che, per motivi di studio, per lavoro, tutti coloro che si intendono di informatica e che hanno contribuito a rendere i commenti sotto i video molto più interessanti rispondendo in modo molto puntuale alle domande degli altri utenti. Quindi grazie a loro in particolar modo e grazie anche a tutti coloro che hanno solo visto il video, hanno messo un mi piace, lo hanno condiviso. Insomma credo che sia proprio così che dovrebbe funzionare la community di YouTube. Noi comunque ci vediamo in un prossimo video, grazie per la visualizzazione e mi raccomando siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate. Papa? 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 Papa?